Si parla molto di necrosi dei macellari o osteonecrosi dei macellari, è una patologia che si manifesta con delle infezioni che non regrediscono, nonostante delle terapie come la terapia antibiotica o delle terapie chirurgiche, delle infezioni che possono coinvolgere anche i denti ma non sono originariamente causate dai denti e comportano anche l'esposizione di parti dell'osso nel cavorale, quindi attraverso la gengiva, quindi è visibile una parte di osso necrotico, quindi grigio, scuro, che possono manifestarsi con dolore oppure essere percepite dal paziente come senso di ruvidità o essere intercettate magari con una visita odontoiatrica. Sono dovute a tante cause, cause batteriche e in certi casi anche ad alcuni farmaci. Tra i farmaci descritti in pazienti che manifestavano queste osteonecrosi c'è la categoria dei bisfosfonati, è un gruppo di farmaci che ha un'azione in tutte quelle malattie causate che si manifestano con un grave riassorbimento osseo, quindi questi farmaci bloccano il riassorbimento osseo e quindi vengono utilizzate in quelle patologie oncologiche, in quei tumori che colpiscono le ossa o le metastasi di altri tumori che interessano le ossa o comunque nelle malattie osteometaboliche come per esempio l'osteoporosi. Ecco, in tutte queste condizioni esiste la necessità o la possibilità di utilizzare questa categoria di farmaci. Esistono, collegate ai pazienti che assumono questi farmaci bifosfonati, esistono due categorie di rischio. I pazienti oncologici, ossia pazienti che sono in terapia con queste medicine perché hanno delle localizzazioni di tumori alle ossa, oppure un'altra categoria che è a basso rischio che sono i pazienti con l'osteoporosi. Ecco, poi esistono dei fattori in più di rischio che vanno calcolati. Se un paziente ha l'osteoporosi e assume questi farmaci ha un rischio basso, ma questo rischio aumenta un pochino di più se assume per esempio da tanto tempo il cortisone, se ha delle malattie in più come il diabete o se assume degli altri farmaci che agiscono per esempio sulla circolazione e limitano quindi la circolazione e la perfusione delle ossa macellari. È molto importante che il paziente che assume queste medicine entri in contatto con il medico prescrittore che sicuramente lo informerà del rischio di questa eventualità anche se non frequente assolutamente da gestire, da prevenire, che è l'osteoporosi dei macellari e che entri in un rapporto deciso periodico con il dentista. Infatti la prima prevenzione è quella proprio odontoiatrica. Tutte le persone che lo assumono questi farmaci per motivi oncologici devono fare una visita preventiva prima di iniziare a fare le cure ed eliminare i foci, le zone di infezione, quindi estrarre i denti malati che non sono recuperabili, pulire dal tartaro e osservare un'ottima igiene orale. Ugualmente i pazienti che lo fanno per l'osteoporosi devono seguire un programma forse meno aggressivo ma sempre di un protocollo di igiene orale molto importante e devono informare il dentista curante che sono in cura con questi medicinali perché lui poi saprà mettere in atto tutte quelle minovre preventive per limitare i traumi alle ossa e alle gengive.